Ciao a tutti, sono Andrea Guzzoni, fan del CEO di Reintu.com Vi parlo oggi dei nostri uffici di Londra, ad Ibori e vicino ad Arsenal Purtroppo parlerò soltanto io perché sono l'unico italiano del team Il nostro progetto Reintu è una piattaforma che ormai da 7-8 mesi permette a business e utenti finali di nolleggiare comodamente online qualsiasi tipo di prodotto Al giorno d'oggi abbiamo più di 412 prodotti available sul nostro sito Quindi comodamente una selezione al prodotto che vuole nolleggiare, affittare, le date e poi lo riceverà dove desidera e poi lo veniamo anche a riprendere Reintu è un marketplace delle migliori società di noleggio a Londra Quindi si possono trovare più di 300, più di 400 prodotti che vanno ad arredamento, elettronica prodotti per bambini, prodotti musicali e abbiamo selezionato appunto le migliori società di noleggio nei rispettivi vertica quindi la migliora società di noleggio per quanto riguarda prodotti di elettronica prodotti di arredamento, design, prodotti per eventi, feste e così via Li aiutiamo nel processo quindi di e-commerce Quindi aiutiamo l'industria del noleggio di prodotti ad avere un accesso più facilitato al mondo dell'internet Quindi l'e-rental se possiamo metterlo per facilitare il concetto di e-commerce verso il mondo del noleggio Sicuramente è stato un processo interessantissimo di sviluppo che abbiamo avuto grazie soprattutto a un word of mouth e anche un approccio molto lindo a parte nostra per capire da dove davvero venivano gli ordini che soprattutto appunto derivano dal mondo dell'hospitality e anche che tipologie di prodotti venivano selezionati Questo ci ha permesso di essere molto snelli e anche di appunto focalizzarsi su quelle che sono le partnership più importanti Al giorno d'oggi lavoriamo con più di 5.000 appartamenti a Londra Quindi da You Con Your Welcome, Airbnb Manager, Sorted che è la più grande platform appunto di Airbnb Manager qui in UK I quali appunto permettono, offrendo i nostri servizi, ai proprietari delle case, il landlord oppure agli utenti finali di customizzare l'appartamento Questo sicuramente dà un senso di libertà che prima non era possibile Quindi noi vogliamo appunto stressare il punto di come il nolleggiare Prima di tutto fa bene all'embarment, fa bene allo spazio Non ha senso comprare cose che poi le utilizzano una volta sola o soltanto per un paio di settimane E poi soprattutto dà un senso di libertà che non è più legato al possesso di un solo prodotto Grazie, a presto